Hey LaFapper, benvenuti in questo primo contest settimanale del 16 di Dota 2. Chi vincerà questo contest si aggiudicherà una key di Dota 2 da Steam. Queste key di Dota 2 le ho ricevute via email proprio da Steam e non so perché, ma avendone 16 non sapevo cosa farne e le do a voi. Il contest si terrà ogni sabato e la scadenza sarà giovedì a mezzanotte, per la precisione mercoledì alle 23.59. Per partecipare al contest è molto semplice, cliccare mi piace al video, lo vengo a sapere se non l'avete fatto. Scrivere qui sotto nei commenti partecipo, non si devono scrivere più partecipo per ogni persona perché sennò sarete squalificati. Iscriversi al canale mio qualora non l'aveste fatto e iscriversi al canale di Maion che troverete qui nel link in descrizione. Detto questo penso di aver detto tutto, al limite vedrete scritto nel video ciò che bisogna fare. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video, bye bye!